La CGL di Teramo si schiera con i genitori che da giorni protestano contro la decisione dell'ufficio scolastico regionale di non raddoppiare la prima classe di liceo scientifico dello sport Zoli di Atri, nonostante le 48 iscrizioni. Per il sindacato teramano questo caso dimostra come si continua a ragionare solo in termini di burocrazia ministeriale, nonostante le evidenti contraddizioni che ne derivano e nonostante le richieste del territorio e delle famiglie. In altri casi si riscontrano contrazioni delle classi con la mancata accettazione delle richieste di sdoppiamento di quelle numerose, eppure bisognerebbe tener conto dei numeri troppo alti di bambine e bambine nelle sezioni dell'infanzia, si sa che i bimbi non indossano la mascherina, delle richieste del tempo pieno rivendicato dalle famiglie della primaria e del tempo prolungato alla secondaria di primo grado. Dimostranze dal territorio raccolte nell'ultimo mese dalla CGL di Teramo, che ha organizzato assemblee in videoconferenza per il personale delle scuole della provincia. Oltre 600 tra docenti e ATA hanno partecipato a questi incontri. Confronti aperti su temi degli organici e delle risorse messe a disposizione per le scuole in tempi di pandemia e sul rinnovo contrattuale scaduto nel 2018. Nel corso delle assemblee sono emerse tutte le difficoltà che stanno vivendo i docenti in questo periodo, un'emergenza affrontata con spirito di servizio, spesso oltre gli stessi obblighi contrattuali. Stessa cosa vale per i collaboratori scolastici, che con organici ridotti hanno dovuto assolvere a compiti amministrativi sempre più gravosi. Il sindacato terramano si rivolge ufficialmente all'ambito territoriale e chiede di correggere queste storture e di accogliere le richieste di formazione delle classi inviate dalle scuole della provincia di Teramo.